e ciao a tutti ragazzi un saluto a tutti gli iscritti e come sempre per chi fosse capitato per la prima volta sul canale lo invito a iscriversi mettermi piace se il video è stato di aiuto e scrivere qua sotto nei commenti se avete bisogno di altri aiuti inoltre vi invito a seguire le pagine di facebook e instagram di cui metto qua sotto il link in descrizione per rimanere sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video in questo video vedremo dove è posizionata la lancia di odino la posizione sulla mappa è questa in norvegia vi dico in anticipo che per ottenere questa lancia dovrete completare l'arco narrativo principale e successivamente tornare o accorgervi subito della posizione in cui si trova vi dico questo perché magari alcuni di voi hanno completato la storia principale ma non hanno ottenuto la lancia poiché magari vi sono passati accanto all'ingresso della stanza contenente proprio la lancia stessa senza accorgersene detto ciò come avete visto si trova ripeto in norvegia in alto a destra poi potrete recuperare comunque la mappa detto ciò vi metto a velocità aumentata il video fino ad arrivare all'ingresso della grotta dopodiché vi mostrerò prendendo di riferimento una porta anche qua non vi dico che porta è senza fare spoiler però prenderemo proprio di riferimento quella porta per poter individuare l'ingresso eccoci qua siamo di fronte all'entrata della grotta scendiamo dalla cavalcatura e vi mostro come raggiungere la stanza che ci interessa innanzitutto dovremo infrangere nuovamente la lastra di ghiaccio e una volta eccola qua raggiunta questa porta come punto di interesse roteando la visuale come vi mostro vi basterà andare in questa direzione e sulla destra di questa piccola roccia definiamola così troverete un ingresso l'ingresso della stanza contenente la lancia eccolo qua ragazzi spero che questo video come al solito vi sia stato di aiuto e colgo ancora una volta come sempre l'invito a scrivermi nei commenti se avete bisogno di altri aiuti detto ciò ragazzi che dire lancia ovviamente bella da vedere dispiace averla ottenuta al termine dell'arco narrativo principale però ragazzi come sappiamo usciranno vari DLC e sicuramente vedremo tanti altri eventi riguardanti Assassin's Creed Valhalla detto ciò ragazzi un saluto e al prossimo video